Buongiorno a tutti, oggi parliamo di aromaterapia, più specificatamente parliamo dell'olio essenziale di arancio. Io appena prima di partire col video me lo sono annusato, è meraviglioso, è buonissimo. Come viene ricavato? L'olio essenziale di arancio viene ricavato proprio dalla spremitura freddo della scorza dell'arancio. Pensate che dall'arancio noi abbiamo tre oli, pensate la ricchezza, perché dalla scorza c'è l'olio essenziale di arancio, dai fiori dell'arancio si ricava l'olio essenziale di neroli che funziona bene per un sacco di altre cose che però non vi so spiegare oggi ma la prossima volta e poi c'è l'olio essenziale di petit grain che viene ricavato dalle foglie dell'arancio, quindi immaginate questa pianta quante cose ci dona. L'olio essenziale è proprio quello ricavato dalla scorza che è questo che ho io adesso, è un olio che serve tantissimo per andare a risvegliare la gioia dentro di noi, quindi viene chiamato l'olio della gioia proprio perché l'arancio dà allegria, cioè proprio al livello olfattivo va a stimolare l'allegria all'interno del nostro essere. Quindi vi invito a, se avete necessità, tenerlo nell'ambiente, potete utilizzare l'aromadiffusione oppure addirittura metterne qualche goccia su un fazzoletto, tenervi il fazzoletto in tasca se avete voglia ogni tanto di annusarlo, tenerlo in borsa, metterlo in macchina, in macchina quando c'è tantissima gente che è super arrabbiata in macchina, un pochino di olio essenziale d'arancio risolverebbe tantissimo le cose. E poi cos'altro vi posso dire? Ah ecco un'altra cosa per la quale serve quest'olio è che stimola l'appetito, quindi se avete adesso, mi sa che come video siamo quasi intorno alla prova costume, vero Albino? Non conviene usarlo per stimolare l'appetito, anche se non si direbbe perché io c'ho la dolcevitina qua fa un freddo cane perché giriamo un pochino prima, noi ci mettiamo avanti con il lavoro. E cosa volevo dirvi? Ecco se non avete bisogno di stimolare l'appetito in questo caso non mettetelo troppo in questo periodo. Vi ricordo che per quanto riguarda l'aromaterapia potete andare a guardare o così come per gli altri argomenti, potete andare nel link in descrizione sotto, c'è il mio canale YouTube, i video lì sono tutti messi bene in ordine d'Albino rispetto alle playlist e quindi potete andare a cercare quello che più vi serve. Intanto io vi ringrazio come sempre di avermi ascoltato, vi auguro una buonissima giornata e come sempre, ma sempre sempre, grazie alla vita!